Un incidente grave a Tordigliano, ecco questo è il punto esattamente, lì c'era una moto che stava superando e dall'altra parte un ragazzo di sorrenda con una ragazza americana con le scarpe di ginnastica purtroppo incidenti grave al tendine, speriamo che non sia nient'altro di grave, due ambulanze hanno trasportato lui e la ragazza